Noi come gruppo SACE abbiamo inserito la sostenibilità come pillar del nostro piano industriale 23-25 ma addirittura l'abbiamo inserito nella nostra purpose aziendale, cioè quella di produrre benessere nelle comunità in cui operiamo. Sostenibilità significa rimanere, restare competitivi in Italia e nel mondo, significa investire in una transizione che abbia un impatto non solo zero sull'ambiente ma anche nelle altre lettere della transizione in ottica SG e per noi, per il sistema industriale italiano, significa rimanere competitivi nel mondo e restare, se non sviluppare, le quote di export. Questi eventi sono importantissimi perché noi investiamo tanto in comunicazione e promozione ma quella che raccontiamo è la education in ottica sostenibile. Come questi eventi abbiamo partecipato lo scorso anno a oltre 50 webinar formativi e di promozione della sostenibilità perché solo attraverso un impegno concreto nel diffondere le informazioni della sostenibilità le nostre imprese comprenderanno che sostenibilità non è un investimento, un costo ma è un'opportunità.